Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6 nel corso di questo lunedì. 11 luglio si prospetta una giornata complessivamente stabile al mattino, dopodiché tra pomeriggio e sera potrebbe ritornare qualche temporale al nord-est e nelle zone interne del centro Italia, questo ad opera di infiltrazioni fresche in alta quota in arrivo dal centro Europa. Tuttavia il caldo tenderà pian piano ad intensificarsi da nord a sud, in quanto l'anticiclone inizierà ad inviare impulsi caldi dall'Africa nord-occidentale. In Abruzzo una giornata comunque stabile al mattino, qualche nube in più nel pomeriggio, la possibilità di acquazioni, qualche isolato forte temporale tra Terramano e Aquilano, questo in particolar modo tra il tardo pomeriggio e le prime ore della sera, fenomeni isolati ma localmente intensi. Un po' di nubi altrove ma con fenomeni quasi inesistenti o più qualche breve piovasco nelle ore e serali in rapido esaurimento. Le temperature stazionarie massime attorno ai 30-31 gradi, minimi altrettanto stazionarie, comunque tra i 14 e i 22-23 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.